GF VIP, retroscena nuova puntata 20 febbraio, Onestini avrà una sorpresa dato non. Lunedì 20 febbraio andrà in onda una nuova puntata serale del Grande Fratello VIP7 su Canale 5, a svelare di retroscena su quello che succederà nel corso della lunga diretta condotta da Alfonso Signorini. Ci ha pensato l'esperta di gossip di Yanira Marzano. Sul suo profilo social, infatti, ha reso pubblica una segnalazione legata ad una sorpresa che lunedì sera dovrebbe vedere protagonista uno dei concorrenti di questa settima edizione. Nel dettaglio, lunedì 20 febbraio andrà in onda la prima puntata settimanale di questa edizione del Grande Fratello VIP. In programma come sempre dalle 21.40 circa su Canale 5. Al centro dell'attenzione ci sarà il televoto che porterà all'eliminazione di uno dei concorrenti innominati OMA. Stando a quanto riportato da Deyanira Marzano, ci sarà spazio anche per una nuova sorpresa. Luca Onestini, tra i concorrenti più discussi e chiacchierati di questa settima edizione delle reality show Mediaset, riceverà infatti una sorpresa nel corso della diretta. Stando al retrosceno e riportato dall'esperta di gossip sui social, l'extronista di Uomini e Donne avrà modo di rivedere uno dei suoi migliori amici, trattassi dell'opinionista TV, Raffaello Tonon. I due ebbero modo di conoscersi proprio durante l'esperienza comune di qualche anno fa a GFVP. Da quel momento in poi, non si sono più lasciati diventando grandi amici nella vita privata. E poi ancora, al centro della nuova puntata serale del Grande Fratello VIP7 in onda questo lunedì 20 febbraio su Canale 5. Ci sarà spazio anche per il risultato del televoto di questa settimana che vede coinvolti cinque concorrenti. Trattasi di Nikita, Antonino, Davide, Sara e Andrea, per uno di questi vipponi arriverà il momento di abbandonare definitivamente la casa più spiata d'Italia, le loro sorti saranno decretate dal pubblico da casa che potrà esprimere la propria preferenza fino a quando non verrà chiuso il televoto nel corso della diretta condotta da Alfonso Signorini. Intanto, però, in queste ore, impazzano i sondaggi sul nome del papabile eliminato dalla diretta serale del GFVP di questa settimana. Al momento, secondo quanto espresso dagli spettatori e fan social delle reality show, i due candidati all'eliminazione definitiva sarebbero Antonino e Andrea. Entrambi sembrerebbero non aver fatto breccia nel cuore degli spettatori delle reality show e potrebbero giocarsi il tutto per tutto al rush finale di questa settimana. Grazie. 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 Grazie.